Ehi Candy Candy, ma non lo sai che è inutile piangere sulle proteine del latte versate? Non scherzare, ho cambiato lavoro e non ho più tempo di allenarmi, quindi butto via tutto! Beh, su questi temi sono sensibile, quindi ti propongo due opzioni. Posso darti un bel deltoide dove piangere, o possiamo realizzare un programma di allenamento dove otterrai ottimi risultati in metà tempo. Sì? E come fai? Mi fai allenare la metà? Devo scegliere se allenare la parte sinistra o la parte destra? No Fagiano, lavoriamo su tecniche di intensità, tipo super setto e piramidali, andiamo a gestire i tempi di recupero in modo ottimale, anzi l'allenamento sarà anche più faticoso. Ma allora, certo, grazie, scelgo il programma di allenamento. E adesso perché piangi? Ho buttato via tutte le proteine! Posso piangere sul tuo deltoide? Ma te lo scordi? Andiamo!